Questa è l'era secondaria. È durata da 230 milioni a 65 milioni di anni fa circa. La pandera comincia a rinestirsi formando i cotidiano tattuali. In questa era ci sono diffusi i dinosauri. I esseri che hanno popolato questo periodo sono i dinosauri, gli uccelli e i primi. I mammiferi, i dinosauri, possono essere i vivori o i cannibori. Pensavano tanto, avevano grandi dimensioni e erano diversi tipi. Arrivò un meteorite che alzò le temperature. Le piante erano sempre meno. Quando i dinosauri e i vivori non avevano più cibo, così iniziarono a morire e servessi anche i cannibori. Tutti i dinosauri sparirono verso la fine di questo periodo. Sono nati i primi nomiferi. culoMati Iliana Dock Grazie a tutti.